Benvenuti e bentrovati nella seconda parte della recensione dei nuovi liquidi di moonshine che sono super contento di avere purtroppo nel video precedente ci sono stati dei piccoli problemi con l'audio che non si sente bene spero che invece vada bene, ancora non lo so perché non ho ancora visto la clip anche se si sentirà con un sacco di rimbombo, quello lo so già dal microfono della camera abbiamo detto che ci sono altri liquidi, cioè hanno fatto una linea di tre liquidi ice che è il Gran Mamba, il Too Late, ah troviamo il Too Late e lo Zero Ice allora io partirei dallo Zero Ice per poi andare al Gran Mamba e finire di nuovo col Too Late visto che lo Zero Ice, cioè lo Zero mi ricordo che è l'unico liquido un po' fruttato di moonshine e viene detto che sia precisamente lo Zero Ice è dopo tutte le creme, questa è la variante fruttata della linea lo Zero è un fruttato di uva fragola e mirtillo, un sapore fresco e pieno, un vero e proprio fruttoso lo descrivono un vero e proprio fruttoso allora il profumo è straordinario, si sente l'uva fragola proprio l'ice pare che sia un po' too much, ma cos'è che è il mirtillo? si il mirtillo, il mirtillo fa da bella componente proprio invece non è too much l'ice e lo rende veramente caratteristico e buono si, confermo il mio giudizio sullo Zero che diedi quando feci la prima recensione di moonshine si sente che è un'uva fragola e c'è il mirtillo, ma l'ice evidentemente l'hanno addolcito un pochettino lo rende più spinto, più potente, più incazzuto non so come descrivere bene, mi piace però, mi piace, mi piace, mi piace secondo me questo in un tank spaccalculo è uno di quei liquidi che va svappato in tank secondo me perché rende di più, è più chiuso e... boh, sono di questa idea qua il mio amico Gran Mamba, i biscotti al lime, ma chi se li dimentica? infatti loro descrivono, appena mi si sblocca qua il Gran Mamba è un liquido chiaro e all'olfatto risalta subito il forte profumo di lime ma di pan lo renderà il meglio di sé biscotti dolci con una copertura di lime e li metta di Sicilia ice ovviamente andiamo a drippare beh allora, degustandolo, ti sembra di mangiare il calippo la freschezza del calippo proprio il biscotto si sente poco andiamo a svappare poi invece, svappandolo, esce la caramellatura del... penso sia zucchero di canna, qualcosa del genere eh sì ragazzi, ho il culo che tutti questi liquidi mi piacciono, non so che cazzo farci penso che l'ice che ve lo dà drippato non ve lo darà in... come si dice... in tank o comunque in flavor perché in cloud effettivamente è tanto ma provandolo in flavor sono quasi sicuro che non darà tutto questo ice ed è proprio buono porca troia se è buono complimenti ragazzi avete confermato il gran mamba che è assurdo e soprattutto l'aggiunta dell'ice secondo me gli dà quella spinta in più che lo rende, come dicevo prima, cazzuto e di carattere complimenti ho la box che cuoce proprio andiamo a provare il Tulei in versione ice è lo stesso semplicemente che con un po' di freschezza in più che ovviamente io ora lo sentirò triplicato perché dopo due liquidi ice l'ice in bocca ti asfalta merda merda se è buono il fresco della menta aggiunto all'ice tira una linea su tutto ciao ciao vediamo nel 95 ma nel 3095 confermo tutto ciò che ho detto del Tulei e aggiungo che in cloud l'ice poi io ripeto esco da due prove di liquidi pieni di ice quindi lo sento ancora di più l'ice in cloud è quasi moltiplicato in tank o in flavor sei perfetto secondo me questo qua io lo vedo da pod come la defender per capirci e ci vai dentro che è una meraviglia complimenti ragazzi non c'è un cazzo di altro da dirvi complimenti ragazzi perché fa veramente paura tutto ciò è buonissimo mi piace detto ciò ragazzi abbiamo finito anche questa recensione semilampo ho cercato di fare le recensioni un po' più veloce e più snelle se il video vi dovesse essere piaciuto vi invito a mettere mi piace iscrivervi al canale mettere un subscribe attivare le campanelle per ma non diciamo pansane capito no? abbiamo detto tutto e soprattutto avendo detto tutto devo dire grazie a Gav Store per avermi fornito questo stupendo cappello andate a cercare le nuove felpe che hanno anche le tette di Gav Store lo vedrete nelle mie storie dappertutto insomma un casino straordinario cercateli fate dite avendo detto ciò abbiamo detto tutto non posso svapare perché c'è troppo ice che vuoi? cosa vuoi orologio? cosa ho fatto? in piedi e sono seduto vabbè vabbè ciao! ci siamo passi insieme ci siamo passi insieme ci siamo passi insieme